Let's go! E me la provo, me la provo, me la provo così, me la provo così, si 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 si, la proviamo così, fa 97, qua fa 93, perché c'è alcuni che non fa affinità, forse posso fare un allenamento tattico, vediamo, si, non ce l'ho, Vabbè, ti capirà, non che c'è da un cassa, aumento familiarità non ne ho, vabbè, 98, vabbè, contro la Juve a leggenda, ce la proviamo, la proviamo, così provo anche sto modulo nuovo, Allora, vediamo come chi sta, vengo tutti su, non cambio niente, asso proprio tutto come che se, no, ma andava ben più su, mi piaceva più su, così, esatto, Non è che roba che mi manca la farza è questo, capitano, cultuano, no, capitano, mettiamo via la, anzi, capitano, metto Harry Kane se non sbaglio, si, Punizione lunga, mettiamo l'hai card, vabbè, lhai card scorta, mettiamo la traf, punizione, fluidezza, nedved, andiamo là al sinistro, nedved, Nextra, nedved, rigorista, Kane, giocatori ne attacco, 1, 2, 3, Magliette Metti in blu loro In altri in arancion dai E vedemo come che va Questa Legend Challenge Dai che andemo Che negozetti in difesa vedremo We wanna win We wanna win We wanna win Clima che si ripete anche sull'antrosfera sulle tribune Di tipo si questanti gioie li si infatti Sono arrivati in massa Bravetti Spettacolo che offrono le due colpe a dir poco eccezionale Vediamo se fosse un altro trucco L'arbitro ha già dato il via alle danze No Fallo mio Mi parla onesto Mi stoppo la palla Allora Stoppo la palla Mi viene in dosso lui se fa lo mio Cominciamo Spettacolo Ecco mi va Circa a fila Pallone fuori davvero di pochissimo Gran peccato Spazza via senza cronzo Ottima progressione Palla al piede Tenta di calciare Idea buona Precisione no Il tiro non è stato un granché Ma ha avuto il coraggio di provarlo E' un ottimo Palla al tiro Cibola di nuovo Ottima la parata del perpia Non ha sbagliato nulla All'estremo difensore ha mantenuto la calma E ha reagito Cooine Torres Alexandro Grazie Nessuna delle due squadre Fino ad essere riuscita a superare il portiere avversario Zero a zero Rabiot Allarga il gioco sulle fasce Cambio di fronte La difesa non si fa cogliere Prevare Palla di nuovo sotto il muro Contro Azione fallosa di subito Poi va fissio a fallo Succhellini Vediamo Eeeh Toro si chiara da Peadina Eeeh Alexandro Alexandro Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene Guiol Alaba Prova con la palla lunga Libera tempestivamente Raikard Beh ora Raikard Palla questo no? Graviù Chiesa Alexandro Preferisce il retro passaggio Oh non è assa mica lei in attacco Chiesa Rabiot Si spingono avanti Vediamo cosa inventa Ecco Fernando Torres Chiesa Bentancur Chiesa E' entrato con la fontina in porta C'è la palla lunga Chiesa Scatta verso il pallone Errore qui Pallone sprecato Tira Fernando Torres Ottimo dai e vai Arma La gioca in aria Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione Ottima pressione la sua Palla recuperata Alexandro Rabiot Di bala Di bala E' tutto facile no? Tutto facile no? Tutto facile Tutto facile Tutto facile Tutto facile Tutto facile Ma con i palloni di oggi A volte la palla prende dei giri assurdi E' difficile leggere nella proiettoria Ma con i palloni di oggi Ma andate a cagare L'ho già visto Che spada cagare E' difficile Ma andate a cagare Nonostante ci sia un solo gol a ripeto Non è stata una prestazione molto convincente Possono fare molto meglio di così Devevo recuperare fiducia E non farsi prendere dalla smagna di rimontare Grazie. Grazie. Che palle, sono caduto a perderla. Perché io ho messo il contropiede a Torres e già è in fuorigioco. Va cagato. Lancio lungo del portiere. Bentancur. In verticale. Decide di sfruttare la fascia. Quadrato. La palla viene rigiocata verso l'interno. Mostrano un buon controllo del gioco. Dubola. L'utilizzazione decisamente. Il gol. Alaba. E non va troppo per il sottile. Ma è radunca, eh? Sanzionato dall'acqua. Alaba. Kane. Alaba. Valcross. Diviazioni di testa. Bella l'azione. L'Uventus. L'Uventus deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Un'orata. Di bala. Di bala. Passaggio sulla destra. Ecco di bala. Quadrato. Ottimo dribbling. Di bala con di bala. Perfetta la parata. Direi che il portiere è stato impeccabile. È difficile fare meglio di così. È difficile fare meglio di così. Quadrato. Il Venezia deve aggiustare la situazione. Cercare il tiro con più tenacia. Palla giocata in verticale. Paolo di bala con la palla. Kane. Rijkaard. È proprio questo che devono fare. Devono insistere. Sta loro dare il massimo in questa fase avanzando il più possibile. Proprio così. L'appoggia sulla fascia. Palla a Rijkaard. Sergio Ramos. Passaggio filtrate per Fernando Colores. Esempio perfetto di marcatura. Gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Alexandro. In avanti. Vuol far salire i compagni. Bentancur. Dice no. Quadrato. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Non intenziale ci va di fuoco. Scodella in avanti. E non aveva scelta in questa occasione. È incomolata. Chiesa. quadrato. Questo è il tipo di difesa che scoraggerebbe anche il più esperto degli attaccanti. Non sta concedendo palle giocabili praticamente. Quadrato. fuori Famelina. L'allenatore decide che è il momento di inserire forze in disco. Costituzione comprensibile. Sembrava molto stanco. Meglio fare entrare un giocatore fresco. Palla intercettata. Ottimo il suo senso. Si ma se la via l'uomo. La gioca in profondità. Attenzione indesiderata e marchatura uomo. Vita dura per i fuori classi offensivi. Quando riesci a capire chi è in forma e fa arrivare i palloni là davanti. Fermarlo significa risolvere la metà dei tuoi problemi. Passaggio profondo per nebbia. Ci mette la testa. Ma non è possibile. Ferry Kane. Ci mette la testa. Non si perdonerà facilmente quell'errore. Era una grande possibilità che non è possibile. Ma andate a cagare dai. Che sbolo. Che ne diamo conto? Ce ne diamo conto? Ce ne diamo conto? Tutto l'attacco. Tutto l'attacco. Sotto la doccia. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività. Per provare a mischiare le carte. Allarga il gioco a destra. Se ne va. Palla verso il centro dell'aria. Buona direzione del portiere. Questo è il Wilder. E qui falliscono nuovamente in una grande occasione. Hanno avuto diverse occasioni da gol. Sono andati nipotidamente vicini. Si insistono, prima o poi la rete arriva Ma no, a caso Che schifo, che schifo, che schifo Ma che schifo, ma che sbolo Stiralità offensiva, non ho fatto un cazzo Non ti vai neanche in attacco con sto Roger de merda Con sto Roger de merda, fa cagare dai Che sbolo, cosa capo il cazzo Ma vai a cagare dai, che sbolo Dai me li metto in snauto dai Che vado a non fa un culo dai Non so, riusci a fare un tiro in porta Che i due tiri che ho fatto sono andata fuori Ma cagare dai Va a fare in cuo proprio dai Che sbolo Sempre me, non posso mai vincere prima subito No Che avevo da fare la prova con il cazzo Dei giocatori da merda Che avevo da fare Troppo difensiva Rodgers Cioè non ti riesci a canare in attacco Non hai proprio, non so chi cazzo dà la palla No, c'è Mostel In primo tempo Ok qua Proviamo a mettere Modric Dai In difesa va benissimo Marcature metto già subito Guarda perché non vado a rompermi i coglioni Qui dopo attacca a fare melina E robe strane dai Va a cagare dai E che sbarro Noi che ha fatto un movimento giusto in attacco Uno Noi che riusci a inserirsi da nessuna parte Tio Mio Li sto messo già in offensivo Siamo certi che pioggia o meno Stasera sarà il pubblico a fare la differenza Speriamo quindi che il calcio giocato Faccia onore a loro entusiasmo La struttura dell'Allianz Arena Si tinge di un rosso brillante Ogni qualvolta la squadra della città Ciuponotti Non riesce a convertire il cross in red Sembrava quasi uno schema provato e riprovato in allenamento Si è mosso con il tempismo perfetto sulla palla del compagno Si vede che tra i due giocatori c'è una grande intesa Ma ti sei l'incoglionio Ma ti sei l'incoglionio Ma ti sei proprio Courtois Ma che cazzo che ha fatto Ma ti sei l'incoglionio Guarda la lavare i passaggi chi fa a fiori Non ci credo Non ci credo Situazione spinosa Ma il suo intervento è stato provvidenziale Potrici Bella apertura Prova il filtrante E' un corvento di passaggio Entra la conclusione Tappa Tappa Vaffacua Tappa Che giocatore Gli avversari non lo lasciavano respirare ma lui se li ha mangiati Ha dimostrato classe e ottima forma fisica Hanno trovato subito il gol del vantaggio E adesso avranno più spazi Alaba Mostrano un buon controllo del gioco Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa Kane C'è l'opportunità per il contropiede Havar Scodella in avanti Decidono di giocarla all'indietro Un solo gollare fermo Fino ad ora chiude il punteggio E quindi di 1-0 Hernandes Sicuri in fase di palleggio Havar Kimi Sané Kimi Vada più in là Si avvicina la porta Lui Sensazionale puntuale Riega la giocatura del gol Che parata Una parata eccezionale Ha avuto un riflesso pelino Che in pochi si aspettavano Forse nemmeno i suoi compagni Ma parlo dove? Si ripartirà con un calcio da fermo Esempio perfetto di marcatura Gli hanno impedito di andarsene via Palla al piede Trova la giocata di fino Ma te fallo Ma solo Mario te fallo Però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra Alaba Müller Passaggio sulla destra Circa lo spunto Attenzione Arriva attraversione di Müller C'è la palla lunga In avanti Prova Sterling E passa Prova a metterla in mezzo Sterling Si va bene Ma che cazzo Della messa Che darà l'uomo Occasione per il contropiede Alaba Lunga in fascia Con una palla giocata alta Grande forza fisica Non si è fatto sopraffare Ha provato a fare tutto da solo La sua iniziativa però Non ha dato i frutti sperati Sanier Ottima la pressione difensiva Che cazzo Un tiro è meglio sa fare Che cazzo Che cazzo Si è andata a fare Una E2A Si riprende con il secondo tempo Si trova la trovera di mista Un vantaggio di uso Palla fettata Ci prova Grande salvataggio Da parte dell'estremo difensore Una bella parata Che risponde A una buona conclusione Bravo l'estremo difensore Pallone lungo In verticale Spinge sulla fascia destra Arriva il cross di Modric Si fa trovare Il posto giusto E allontano Mamma mia Vi era De angolo quello Ora vediamo Se riusciranno Ad approfittare Di queste porte No Nessuno arriva sul cross Guarda che arghi Guarda che arghi Non volevo metterla qua Pallone promettente Il difensore Può spingersi in avanti Sproglia la situazione Allarga il gioco Ma valla che passaggio Pallone in avanti Verso compagno L'azione si stava facendo Pericolosa Ma ha preso bene il tempo E si è messo in mezzo Kimmy Lungo passaggio in avanti Ottima pressione la sua Palla recuperata Kimmy Prova a velocizzare il gioco Con la verticalizzazione Ecco Sané L'allenatore stava dando istruzioni Sui infatti È venuto il momento Di alterare la formazione La prima sostituzione Non ha portato I risultati sperati Ora c'è un altro cambio Vediamo se la squadra Ne avrà beneficio Ottimo il fraseggio Coman Coman Riceve in posizione interessante Scodella in avanti Devono riprovarci Questa potrebbe essere La strada giusta Per riaprire la valentina Lo Mario è un nano del cazzo Avanzando il più possibile Assolutamente Alaba La velo è lunga Di verticale Alaba Corres Palla filtrante per Sterling Circa il passaggio profondo Brutto intervento Fuori tempo Calcio di punizione Stati che mezzo mi ha fatto Il punto Bel passaggio eh Però aspetta Non mi piace però Lo Mario mi fa cagare Mettiamo punta Che rischio Anorazzo Anorazzo L'estremo difensore La caccia lunga A questo punto del match Non possono restare Nella loro metà campo Devono proporsi in avanti Pur senza sbilanciarsi troppo Comanda Comanda Pericolosa E adesso devono inventarsi qualcosa Potrebbe anche essere L'ultima occasione Dai Tiella Fini a 1-0 Fini a 1-0 E' una vittoria davvero fondamentale Per il futuro Magari non spettacolare Come in altre occasioni Ma insomma Basta l'1-0 Per portarsi a casa Il risultato Hanno costruito Questa vittoria Nel primo tempo La mia prima L'ho fatta cagata A giocare Con che cazzo De Roger Il figlio Roger Mi fa cagare Ho converto Non so Buon A giocare Con che roba Beh leggenda Presa Ciao Preparatori di esperienza 6 Ah 6 giocatori Che avevo Converti oggi Vabbè leggenda Vedremo Chi ne ha Piene destra Chi c'è Chi c'è Mateus Fioi Lo volevo tanto Beh Mateus Come che lo pompa Mateus A centro campo Cos'è Onipresente Sì Ho metto a destra Al posto Che non so mai Di chi mettere Ned vede Mateus Perché Difensiva C'è Lì Manca difesa Decisa Sì 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 Bloccalo Bloccalo Lothar Mateus Sono andato Tutti Su di giro Lothar Mateus Vabbè Vediamo Se cosa Gente Da Dar Che Solo Lothar Mateus Che Cazzo Che combina Vediamo Mateus Che Dago Questo Vediamo Questo 192 Vediamo Quanto Che Dà 4,60 Vabbè Vediamo Come farei Preparatori D'esperienza Con Quella La Che Dago Anca Sto Uribe Ok Ok No Qualchi giorni Da Dark Non è presente No Avvierà Speriamo Che Speriamo Che sia Volta Buona Che Con Centrocampo Decente Vabbè Queste Erano Le Due Sfile Che Ho Fatto Vediamo Se C'è La Dark Anca L'abilità Non Credo Però Matteo L'abilità Sì Invece E Ora Che Devo Uso Della Suola Mai De niente Ok Un Salutone A Tutti Ciao Ciao Questa Era La Mia Legend Challenge Ho Sbagliato La Prima Non Dovevo Mettere Quel Cazzo Di Rogers Adesso Lo Vado A Convertire Ciao Ciao